Il Cinema Teatro Massimo alle nostre spalle ospiterà il 5 febbraio alle 21 il concerto dell'Italian Bacharach Orchestra. Com'è nata questa iniziativa che toccherà diverse città, tra cui Pescara? L'iniziativa è nata qualche anno fa da una tesi di laurea mia in conservatorio di Pescara e da lì poi è rimasto questo sogno nel cassetto ripreso quest'anno grazie all'incontro con altri musicisti, quindi con Davide Cerallo e Adriano Iannucci, Marcello Manuli. Insomma ci siamo messi una sera a tavolino, vi ho detto questo progetto è talmente bello che sarebbe veramente un peccato lasciarlo lì nel cassetto. Ecco un progetto che toccherà anche altre città dopo Pescara? Sì, saremo ad Ancona, saremo a Campobasso e poi insomma vedremo tutto il work in progress. Cosa vedremo il 5 febbraio al massimo? Cosa suonerà quest'orchestra in particolare? Faremo un omaggio a uno dei più grandi compositori e autori del Novecento che è Bart Bacharach con un organico vastissimo che è una cosa abbastanza inusuale per il periodo infatti ci sarà un organico formato da voce solista, sezioni di cori, tutto dal vivo, tutto arrangiamenti del tutto originali, ci saranno dei momenti di recitati, momenti di danza quindi sarà uno spettacolo per tutti, alla portata di tutti, per grandi e piccini quindi noi vi aspettiamo. Quello spettacolo che ovviamente è dedicato ai più giovani, anche ai meno giovani una musica per tutti come lei diceva? Assolutamente sì, ovviamente magari i meno giovani la conoscono di più però può essere proprio un'occasione per i più giovani per conoscere qualcosa di immortale. Ma vi stupiremo perché comunque sembra insomma che la conoscano di meno però le canzoni di Bacharach ormai fanno parte del nostro DNA perché fanno parte di tantissimi film, anche dei Simpsons perché c'è una puntata dedicata a Bart Bacharach e poi insomma ci sono delle canzoni talmente conosciute tipo Say a Little Prayer, Magic Moments quindi veniteci ad ascoltare perché ritroverete e riviverete alcuni momenti anche della vostra vita.